Buongiorno a tutti, io sono Vallicelli Cesare, il papà del titolare che è Vallicelli Andrea. Lavoriamo insieme in questa attività da oltre 20 anni. Siamo in provincia di Mantua, precisamente nel comune di Curtatone. L'azienda è stata formata alla fine degli anni 90 per la notevole passione per la meccanica, elettromeccanica. Tutti questi insieme di esperienze e di conoscenze tecniche, viste e applicate a un settore del giardinaggio, che nel circondario non c'era nessuno che aveva un'esperienza profonda in materia. Siamo sempre stati legati a marchi importanti perché l'esperienza ci ha insegnato che i marchi importanti davano garanzia nei confronti del venditore e soddisfazione da parte dei clienti che avevano mezzi efficienti su cui contare per tanti anni di lavoro senza guai. L'azienda offre molti servizi, la vendita di marchi prestigiosi, naturalmente l'assistenza ufficiale di marchi prestigiosi, servizi di noleggio, di prodotti per il giardinaggio. Tutto quello che concerne il far bisogno del giardinaggio e anche della piccola agricoltura come le motoseghe, assistenza riparazione. Ci sono molti clienti professionisti che contano su di noi per l'assistenza celere di qualità e poi abbiamo acquisito una notevole clientela di persone che hanno capito che i prodotti devono essere di qualità e ci siamo impegnati e continuiamo a fare i corsi per tenersi aggiornati e dare loro il meglio che si può dare. Abbiamo avuto un rapporto di amicizia con il rivenditore che ci ha dato modo di provare il prodotto Bottos, ha reso molto soddisfatti sia noi che la clientela, di conseguenza lo abbiamo sposato e continuiamo a essere fedeli perché finora ci ha dato grosse soddisfazioni.